buonasera buonasera e benvenuti in questo nuovo interattivo ascoltiamo l'interattivo basta così negramaro ed elisa una canzone fantastica bellissima stupenda che dire è una canzone che c'è poco da dire su questa canzone perché è veramente bella almeno a me piace tantissimo quindi questa sera andiamo a fare un interattivo che si intitola basta così vediamo se riusciamo a sentire qualche altro secondo ok interrompiamo prima che youtube poi alla fine ci faccia stare sette ore per elaborare un video ho capito che non dobbiamo superare i dieci secondi per volta insomma qualcosina come la mano avevo capito allora benvenuti a tutti benvenuti come vedete nuova disposizione nuovo modo questa sera faremo tre stesa come al solito o come la maggior parte delle volte alla fine caratterizzate da due oracoli ciascuno ciascuna stesa lo prendiamo adesso in diretta come al solito ok poi leggeremo le spiegazioni perché ancora non le ho proprio imparate tutte le stesse hanno valore nel momento in cui si attiveranno il momento in cui le andrete a prendere visione può essere oggi domani tra sei mesi fra un anno quello è il momento in cui la stesa si attiverà vi ricordo che sono interattivi per tutti che sono a scopo di intrattenimento che non bisogna farsi calzare per forza tutto che dovete prendere soltanto il messaggio che vi risuona perché siccome nulla è per caso in questo universo ma nulla 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 accade per caso e molte delle mie ormai amiche lo sanno che non ci saranno sicuramente incontrate per caso e quanto credo a questa cosa allora significava che dovevate vedere questo interattivo chiudete gli occhi concentratevi sulla persona sulla situazione cosa vuol dire basta o che pensate che stia finendo insomma trattenete nella mente un attimo queste parole basta così e poi dopodiché riaprite fate un profondo respiro riaprite gli occhi vedete dove si focalizza l'attenzione prima di focalizzare l'attenzione stavolta facciamo una cosa diversa l'altra volta l'avevo usati facciamo diverso proprio da tutte le altre volte ok le stesse sono caratterizzate da tre lettera la H di hotel la U di Udine e la G di Genova quindi H di hotel U di Udine e la G di Genova scegliete a secondo la posizione 1 2 3 o a secondo di cosa vi ti suona con una di queste lettere H di hotel U di Udine Udine Ucraina lo so fate voi e G di Genova Ginevra Giovanni Graziella insomma Guido fate voi fate voi assolutamente a vostra discrezione queste sono le tre stese 1 2 3 come al solito ringrazio tutti ringrazio per i commenti voi sapete quando mi fa un piacere quanto ci divertiamo anche a risponderci ormai e veramente vi ringrazio per il calore per il calore che mi esprimete nei miei messaggi che mi danno il buongiorno, la buonanotte tutto il giorno anzi mi dispiace spesso non riesco a rispondervi in tempo non riesco a rispondere subito ma veramente non ce la faccio per cui vi ringrazio veramente tanto 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 vi ricordo che l'iscrizione è assolutamente gratuita basta cliccare iscrizione poi sulla campanella sarete sempre avvisati nei prossimi video se invece voleste abbonarvi ci sono tre soluzioni di abbonamento una addirittura prevede il consulto mensile insomma sono abbastanza convenienti ma in ogni caso l'iscrizione normale è assolutamente gratuita ok velocizziamo perché non so che ne verrà fuori quando mi vengono queste idee strane anche io ho paura di me vi devo dire la verità perché mi è venuta così tutto doveva essere questa sera tranne che è questo ma quando mi vengono ok qualche altro secondo ok senza di noi c'è la libertà la libertà queste le andiamo a dire dopo andiamo adesso a vedere facciamo quello che facciamo spesso quando facciamo i libri interattivi quelli belli chi siamo noi chi è lui qual è la situazione e che cosa succederà come al solito il chi siamo noi lo faccio con queste carte queste sono le carte rappresentate da tutte donne per cui ecco perché mi è più facile fare chi siamo noi chi siamo noi prima stesa lettera H l'ho messo lì sperando che riusciate a vederla lettera H chi siamo noi prima stesa stiamo qui qui metto un'altra mamma mia donne di aria donne di aria sicuramente o almeno donne che è insomma andiamo a vedere che è lui anche qui tanta aria ok dunque chi siamo noi noi siamo delle persone intanto abbastanza attive creative la donna qui è proprio creativa generosa anche però generosa in un modo particolare quello che mi balza all'occhio questa donna è generosa se viene curata se non viene curata lascia non dà frutti non non si esprime non non si palesa non ama tra virgolette questa donna in ogni caso che è capace di grande di affrontare grandi dolori forse ha affrontato grandi grandi dolori e tradimenti devo dire perché veramente sono delle carte terribili è anche una donna probabilmente in carriera se non è in carriera è una donna che lavora o forse anche comunque in ogni caso una donna che quando promette mantiene ecco chi siete voi siete delle persone che nella vita hanno sofferto tanto ma proprio tanto 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 sia per situazioni non dipendente da voi che vi hanno fatto sentire proprio tradita ma dalla vita stessa sia per situazioni amorose sentimentali siete stati anche siete anche delle persone che riescono a dare tantissimo ma tanto però a patto che qualcosa gli venga dato non siete delle persone che danno in maniera incondizionata sono molto creative assolutamente però danno soltanto a patto di essere rispettate siete anche delle persone in carriera o delle persone che lavorano in ogni caso siete persone che mantengono sempre le promesse nel limite del possibile andiamo a vedere secondo me siete segni d'aria però insomma sapete che i segni sono migliori andiamo a vedere invece lui anche lui qua mi sembra un segno d'aria un segno d'aria una persona che fa che si occupa di quello che ama una persona che ama molto il proprio lavoro una persona che ha a che fare o con la legge o che in ogni caso è al servizio degli altri per certi versi è una persona veloce molto diretta anche nella comunicazione soprattutto nella comunicazione perché poi se deve fare è una persona veloce di pensiero allora vi spiego perché faccio questa precisazione una persona veloce di pensiero una persona diretta nella comunicazione è una persona che se trova gli usati per la sua strada cerca sempre di studiare il modo per aggirarli ma è una persona lenta nella gira è una persona che studia tantissimo e che riflette tanto su come uscire dalle situazioni e come portare avanti le situazioni lentissima nella gira però è una persona che riesce a vedere le cose a 360 gradi quindi se avete bisogno di un consiglio questa persona è migliore a cui appoggiarsi devo dire che in questa stessa particolare potrebbe essere più piccolo della lei se siete uomini e vi saluto tutti chiaramente cambiate ok quindi direi che proprio stavolta vi direi proprio quello che ha detto per le donne di suona per voi uomini quello che sto dicendo per gli uomini di suona per le donne non so perché stavolta proprio faccio il cambio quindi seguite proprio la linea con cui faccio la stesa quindi questi sono il lei la lei è il lui di questa situazione andiamo a vedere come adesso la situazione vediamo come è questa situazione stesa numero 1 lettera H vediamo una situazione di base qui la situazione sicuramente è stata bella però devo dire che con una volpe a inizio stesa direi che c'è che questa persona è stata anche abbastanza si è comportata anche abbastanza astuta qui l'uomo riesce come una persona abbastanza astuta come una persona abbastanza furba proprio una volpe nel senso che forse non è mai stato veramente chiaro la donna invece no la donna la vedo lenta nell'approssimarsi all'uomo però devo dire abbastanza solida cioè portava presso tutta una serie di sentimenti molto molto generosa la figura in questa stesa l'uomo era un ripeto molto solido anche lui non posso dire però il pensato l'uomo era un qualcosa di non vi dico premeditato ma di veloce di agile e anche di statico cioè ci sono due energie contrastanti in questa persona riusciva ad essere molto passionale da una parte ma anche molto pratico molto accomodante molto molto c'è qualcosa di particolare in questa persona questa persona è molto molto particolare ecco una persona che nella sua solidità nel suo essere compagno anche era anche molto felino molto astuto ripeto ci sono molto veloce tra l'altro una persona molto 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 veloce ma è anche veloce nel subodorare pericoli e scaltro una persona molto mi arriva l'astuzia di questa persona molto astuta molto astuta molto astuta però per questo suo modo di fare per questo suo modo di fare una persona che ama nascondersi non è non è sempre che non sempre si si palesa per quello che è questa persona per questo suo modo di fare qui le cose sono un po' precipitate improvvisamente qui è come se si fosse se qualcosa fosse crollato no? assolutamente quello che è interessante è che mi trovo l'appeso qui e l'appeso qui qui è nella forma dello specchio qui c'è una persona che non riesce a muoversi da se stesso continua a guardare se stessa senza riuscire a guardare l'altro questo è quello che mi arriva di questa persona qui basta così eh sì effettivamente essere una persona del genere insomma sfido chiunque vi devo dire la verità cioè non lo so andiamo a vedere perché in questo momento è come se tra voi ci fosse fosse successo qualcosa di abbastanza improvviso e quindi di di fermo non c'è un allantanamento per il proprio eh assolutamente non lo vedo c'è un fermo c'è eh questo aspettare questo cercare di chiarire ecco c'è questo cercare di chiarire come sta andando questa situazione qui la difficoltà più grande è da parte della donna comunque segni di terra e segni di aria tantissime allora basta così io penso che quella l'energia che prevale in queste carte è quella di voler tornare a quello che era l'ordine iniziale perché inizialmente questa storia era molto bella c'ho qui un se una nuove un nove di coppa sì e anche qui c'è un set di coppa si rimpiange in un certo qual mondo si vorrebbe tornare a questa atmosfera ma si vorrebbe tornare a questa atmosfera per invecchiare insieme qui c'è tanto tanto sentimento soprattutto da parte di lei non posso nascondere manco da parte di lui però ci sono state tante difficoltà tante 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 difficoltà in questa coppia ci si è dovuto allontanare solare quindi io penso che a questo a questo crollo sia seguito o seguirà sicuramente un allontanamento della persona una chiusura di comunicazioni un chiudersi in se stesso perché questa persona vorrà prendere tempo non vuole chiuderla la situazione io ve lo dico vuole prendere tempo vuole capire come fare per superare tutta una serie di difficoltà sinceramente questa è una persona che vorrebbe invecchiare con voi però diciamo che si comporta in una maniera un po' ambigua da questo punto di vista è molto passionale come persona l'abbiamo visto ma è anche una persona che potrebbe diventare anche cattiva felina ve l'ho detto felina ma aggressivamente felina felina non sono tutti aggressivi però questa questa persona si può essere molto cattiva in questo momento la sua intenzione questo suo stare così in attesa è perché vorrebbe venire verso di voi e dirvi che tutte le difficoltà sono superate ma effettivamente non lo sono c'è ancora da perdere da bene qui ci sono più donne comunque in questa storia qui c'è da chiudere qui c'è da accettare il fatto che ci sia un'altra presenza c'è da accettare pure il fatto che voi siete questo diciamo chiamiamo un chiodo conficcato nella questo chiodo rovente conficcato nella testa quindi o voi avete quindi tra di voi c'è il giudizio quindi ci sarà sicuramente un ritorno non è un basta così definitivo questo assolutamente però vi dico che effettivamente voi due entrambi avete il pensiero l'uno all'altro entrambi ecco perché entrambi lancerete a un certo punto tutta una serie di messaggi chiari o non chiari verbali verbali o paraverbali per un reincontro per un rimettere a posto le cose qui c'è la donna che proprio ha tanta tanta voglia di amare però è stata tanta tanto ferita per cui in questo momento è come se fosse lì in attesa non si muove questa donna adesso ha deciso di non muoversi e di aspettare per vedere che succede nei prossimi mesi non lo vedo un basta così definitivo vedo però che sicuramente questa è una storia di alti e bassi di alti e bassi a fine mazzo ho due donne non escludo che possa essere sempre la vostra energia che da così romantica condiscendente si è trasformata in piuttosto dominante però come se voleste vedere dove dobbiamo arrivare con questa storia come se voi dice dove dobbiamo arrivare con questa storia però c'è anche da dire che sì sì credo proprio che sia la vostra energia ognuno di voi sa perché questa persona si è comportata in questa maniera perché pensa di avere tante difficoltà e perché vuole tornare in cui queste difficoltà saranno risolte però sapete anche che c'è stato qualcosa che vi ha fatto che che vi ha fatto controllare questo rapporto che ripeto è un rapporto dove c'è tanto tanto sentimento c'è stato qualcosa che l'ha fatto controllare che adesso deve essere rimesso a posto questa persona è abbastanza scaldra scaldra non nel senso più brutto del termine comunque diciamo che è agile per salvarsi la pelle ecco allora andiamo a vedere intanto quali erano queste due carte che erano uscite e poi andiamo a fare un'altra cosa dunque vediamo se riesco a capire ecco una delle tue carte che era il segno della vergine quindi molti di quelli potrebbero essere legati di quelli che sono in ascolto potrebbero essere legati al segno della vergine oppure andiamo a vedere che caratteristiche ha l'energia realistica della terra crea un fulcro stabile un occhio del ciclone nella vorticosa energia mobile scusatemi un occhio del ciclo nella vorticosa energia mobile e suggerisce di tagliare fuori tutte le distrazioni per poter analizzare opportunamente la situazione l'occhio del ciclone abbiamo visto che c'era la torre qui qualcosa effettivamente è crollato la frase chiave io analizzo esprime chiaramente la motivazione in questa situazione ti devi chiedere che cosa va ignorato e a che cosa devo dare retta i dettagli sono importanti e vabbè abbiamo visto che qui c'è una situazione che va considerata da tutti i punti di vista l'abbiamo già visto vediamo invece questa carta questa è calì la liberazione allora questa è la dentro la liberazione della rivoluzione ci invita a concentrarci sugli aspetti più nascosti della nostra natura che ci hanno tenuto in ostaggio vincolandoci a vecchie idee che non sono più di alcune utilità per ciò che si vuole diventare smettiamo di definirci una vittima e disponiamoci ad avere successo nella vita nella liberazione di una bellezza profonda fiera e coraggiosa che sorge dalla volontà di spezzare le catene del passato per trasformarsi in qualcosa di nuovo la canzone d'altronde è basta così qui si dovrebbero spezzare dei vincoli però io vedo che nel prossimo futuro non si spezzano questi vincoli ci sono tutte queste sali e sceni questi allontanamenti ma la donna è troppo ancorata vediamo qual è il messaggio di allineamento se il risentimento e la rabbia ribolano sotto la superficie le emozioni represse crescono fino a traboccare proiettare la rabbia l'invidia e l'antico rancore ereditato all'esterno riversandoli su coloro che percepiamo come la fonte del nostro risappunto è molto facile quando qualcosa sollecita queste emozioni rischiamo di proiettarle sugli estranei ma anche su chi ci è più vicino nessuno nesce vittorioso quando tutto questo dolore si scatena nel mondo fatti coraggio tutta questa furia deve trovare uno sfogo ma puoi scoprire nuovi modi per incanare questa energia nelle creazioni qualcosa di straordinario l'orgogliosa diare la liberazione Kali ti offre i suoi pugnani per recidere i legami con le storie passate quando le avrai raccontate ed elaborate quale sia la situazione che vivi il tuo compito di allineamento è scoprire il modo per tramutare la rabbia il furore tutti questi sentimenti in creatività usali per trasformarti in qualcosa di nuovo e per creare invece di sprecarli in una vana distruzione quindi il messaggio è molto chiaro abbiamo visto abbiamo detto all'inizio che la donna è una persona che ha molto sofferto che è stata molto tradita e che se non incentivata se non ha una corrisponzione non è disposta ad amare qui ci dice la carta ci suggerisce di liberarci di questo tipo di rapporto liberarci soprattutto è la rabbia che il dolore ci provoca perché la rabbia non è mai rabbia la rabbia è sempre l'altra parte del dolore nel senso è la forma esterna del dolore noi esterilizziamo il dolore spesso tramutandolo in rabbia quindi liberiamoci invece da questa rabbia cerchiamo di di farne un uso costruttivo di capire dove è stato l'errore e come possiamo elaborarlo quindi questi sono i consigli sono molto belli a me piacciono tantissimo queste carte perché ci danno un'indicazione di massima adesso andiamo a fare un'altra cosa andiamo a vedere vado a tirare se ci riesco prendo solo quelli gialli se ci riesco ne manca una adesso vi vedremo come si è incastrato ok allora adesso prenderemo tre di questi bigliettini ora vi dico che sono il mese di ottobre il mese di novembre è caduto è il mese di oh assurdo è il mese di settembre perfetto possono essere le vostre date di nascita possono essere le date dei vostri incontri possono essere anche i mesi in cui qualcosa in questo rapporto andrà a cambiare ottobre novembre settembre o settembre ottobre novembre ok quindi fate riferimento a questi tre mesi sono rimasti ok ok questa era la prima stessa la lettera H se vi è piaciuto mettete un like se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti e come al solito se non siete ancora iscritti gravissimo iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video andiamo al secondo alla seconda stessa la lettera U di Uganda però li mettiamo così poi andiamo a leggere anche questa andiamo a vedere chi è lei sessi di uomini questa è la vostra stessa ok stasera ho deciso così è venuto così la prima carta è volata e non la lasciamo ma soltanto la mettiamo qua sperando sempre che si veda ma non già oh però cosa stava? questo non sta chi siamo noi donne è un'attività mille in questa stesa e qua siamo donne con grande capacità di amore anche qui grande 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 probabilmente segni d'acqua ma non è detto lo sapete vediamo anche lui interessante interessante combinazione sia da lei che da lui c'è il carro qui c'è questa è una storia che secondo me in questo momento ognuno si è andato per i fatti suoi andremo a vedere comunque allora chi è lei? lei è una persona sì emotiva una persona che comunque ha sempre quello che vi caratterizza è la sensazione di essere schiacciati dagli eventi e dalle persone e dalle cose io credo che qui ci sia una persona che ha un grosso senso di inferiorità oppure di senso di inadeguatezza rispetto a quello che possono essere le situazioni e le cose le persone qui c'è ripeto una grande capacità di amare voi siete il vostro sogno è quello di amare gli esteri cambiati però stranamente finora non siete riusciti in questo sogno vi sentite adatti o l'altra persona è sempre andata via questo è un momento di grande cambiamento avete deciso di voltare le spalle a tutto quello che siete stati o a questa situazione e di andare via dall'altra parte nell'altra parte io ho una persona che è affidabile anche qui ha una persona più piccola di voi o assolutamente immatura due pagine qui c'è una persona che è molto concentrata anche questa nel lavoro o negli studi dipende da cosa fa è una persona che agisce in maniera rapida col pensiero anche questo però quello che mi sovviene adesso è che è una persona che tende a spiarvi questa è una persona che tende a spiare nel senso è una persona che prima di fare un passo analizza così tanto le situazioni anche dall'alto nel senso cerca di ecco se fosse se avesse una grande azienda direi che è una di quelle persone che potrebbe mettere in atto lo spionaggio industriale vedete che cosa mi è arrivato oggi anche questo anche questa persona si sta allontrando da qualcuno da qualcosa ma lo sta facendo però per avanzare nel lavoro c'è un viaggio c'è una grande allora io credo che qui siamo davanti delle persone che si trovano in un punto importante della loro vita in cui devono cambiare devono spostarsi devono viaggiare o proprio questo spostamento questo viaggio questa trasformazione dentro di loro che sta avvenendo l'uomo è una persona lo ripeto che è molto analitica e fa di tutto di tutto analizza la qualsiasi cosa prima di prendere una decisione una persona molto intelligente molto istruita molto istruita e molto intelligente però è una persona con molto autocontrollo tra l'altro determinata però è una persona che mi arriva che usa qualsiasi arma per divincere analizzata così tanto guarda allora se dovessi dare una connotazione a questa persona direi che è un ottimo scacchista una di quelle persone che esaminano la situazione che sanno benissimo come analizzare perché anche da analizzare le situazioni bisogna essere bravi come analizzare le situazioni per arrivare a un determinato obiettivo quindi ci vedo qui anche un giocatore di scacchi non per forza che devono giocare ma proprio nella vita nella vita andiamo a vedere adesso qual è la situazione per la stessa numero 2 non per la stessa fondo la frustrazione allora io credo che qui il problema principale sia stata la gelosia assurdo ma vero qui le carte mi parlano di un allontanamento dovuto a motivi di gelosia voi eravate coppia ma eravate una bella coppia veramente una bella coppia però qui qualcuno si è sentito tradito o qualcuno ha captato la furbizia dell'altro la velocità anche dell'altro qui c'è una persona molto molto veloce nella gira però agisce sotto superficie non agisce in superficie come poco fa avevamo una stessa in cui bene o male c'era una certa felinità una certa velocità ma era molto era palese qua c'è invece è tutto sotto superficie tutto sotto superficie quindi quasi secondo me si è venuto di svelando qualcosa che ha fatto crollare completamente il rapporto è comunque c'è troppa gelosia qui non è qui proprio si è sofferto per gelosia si è sofferto per gelosia qui qualcuno comunque c'era amore in queste carte in questa coppia c'era amore secondo me c'è ancora amore nonostante questo crollo perché si cerca è come se si cercasse di raggiungere di nuovo la persona non l'obiettivo lo si fa magari in maniera non esattamente consona però si cerca di raggiungere la persona quanti tre di spada allora vista così vista così posso ipotizzare sono due scenari uno è uno scenario in cui qualcuno ha fatto qualche scena delle gelose di troppo e quindi la situazione è saltata un altro oppure oppure una delle due persone ha provocato delle scene delle della gelosia che è diverso ma un'altra forte 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 impressione uno scenario molto molto forte e che vedo abbastanza chiaro e probabile è che invece qui questa coppia che era sì nascosta ma perché era nascosta perché questa era una coppia nascosta non era una coppia la luce del sole a improvvisamente qualcosa è stato rilevato e a causa della gelosia quindi si è dovuto allontanare abbastanza bruscamente ci sarà un allontanamento ma questo allontanamento ha causato una grande sofferenza un'enorme sofferenza qui ci sono tanti tre quindi vi dico che qui ci sono più persone se siete uomini siete c'è un altro uomo se siete donne siete la donna di incomodo oppure avete scoperto che c'è una donna di incomodo o un uomo di incomodo insomma girate voi chiaramente devo dire che c'è tanto tanto amore comunque in questa coppia c'è c'è anche la famiglia nel futuro quindi io vi dico che sì in questo momento c'è tanta sofferenza probabilmente probabilmente chi sta vedendo era la parte tra virgolette lesa nel senso che ha scoperto qualcosa e ha fatto grullare questo rapporto però questo rapporto è cronato con grandissime sofferenze da parte di entrambi vi devo dire e non escludo però che nonostante le vostre difese alzate questo rapporto ricominci sia per il bene della famiglia sia perché secondo me non riuscite a staccarvi l'uno dall'altra questi due carro si sono i cambiamenti drastici ma il cambiamento drastico è dovuto proprio al cambiamento di situazione questo nel caso in cui voi foste diciamo la virgolette la moglie della persona pubblica se non lo foste siete stati scoperti e la persona si è allontanata bruscamente quindi ognuno di voi ha preso due direzioni differenti come vedete c'è il carro e in entrambi c'è il carro quindi avete preso proprio due direzioni differenti che però mi fanno soffrire tantissimo sia voi che lui non posso dire che lui non soffre ecce il diavolo qua c'è una grandissima passione una grandissima però siete nascosti sì 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 probabilmente la maggior parte di voi sono l'altra o l'altro qui c'è la voglia di tornare indietro voglia di tornare sui propri passi bisogna però attendere io sono convinta che qualcosa si muove qualcosa si muove o comunque potete anche rimanere nascosta ancora ma in ogni caso con la temperanza questo rapporto non è chiuso ve lo dico col set di bastoni la temperanza questo rapporto non è chiuso qua c'è un diavolo qua c'è una situazione che ci attira in una maniera esagerata non riusciamo a staccarci l'uno dall'altro quindi anche se in questo momento c'è l'allontanamento poi c'è effettivamente un 9 di coppe e un asso di sparo qualcosa che ricomincia in ogni caso pur con tutta una serie di accortezze quindi se siete la moglie probabilmente questa storia cioè ritornerete ad avere una famiglia felice con un rapporto completo se invece siete l'altra persona sappiate che c'è la possibilità che quest'uomo torni da voi quest'uomo questa donna torni da voi perché effettivamente c'è una fortissima attrazione fra di voi tutto è crollato perché c'è stato qualcosa è stato scoperto qualcosa si è subodorato è stato scoperto e quindi praticamente la gelosia ha fatto crollare il tutto c'è stato proprio un allontanamento una da una parte e una dall'altra ok basta così non vedo basta così in nessuno dei casi né se siete la moglie né se siete l'altra persona non lo vedo basta così però sicuramente le cose ci vorranno del tempo per rimettersi a posto andiamo a vedere come ci dicono queste queste due carte abbiamo il pianeta Marte che è la carta numero 17 manco a farla apposta lo sapete che io il 17 abbiamo proprio un rapporto intimo e abbiamo Yuki On la quiete la carta numero 52 andiamo a vedere che cosa ci dice il pianeta Marte in questa stesa allora Marte rappresenta alcuni impulsi davvero potenti l'abbiamo visto abbiamo il diavolo infatti se ci fate caso il diavolo e Marte hanno gli stessi colori vediamo se riesco a ritrovarvelo quindi lo faccio vedere era qua o era qua forse eccolo guardate quanto si assomigliano queste carte poi dici le carte non si parlano guardate quanto si assomigliano queste carte allora Marte rappresenta alcuni impulsi davvero potenti come la competitività la sicurezza in se stessi e l'aggressività questioni riguardanti coraggio fiducia passione e forza fanno anche parte del dominio di Marte che in questa stesa ci fosse passione non avevamo dubbi perché comunque il diavolo lì diciamo che i dubbi erano veramente pochi andiamo a vedere che cosa ci dice questa carta 52 Yukion la quieta questa è la rea giapponese dell'inverno e ci invita alla pratica quotidiana della meditazione e della quieta per prepararsi a una maggiore produttività e a grandi risultati essere aperti a ricettivi rafforzando per concedere tempo ai sogni attivare la relazione con l'universo che permette di dare nuovo impulso alle intenzioni in tali momenti quasi senza sforzo è possibile scoprire che essi si accordano a livello vibrazionale con il mondo della forma io dico sempre e voi lo sapete chi mi contatta meditate perché quello che arriva nelle meditazioni non avete idea non avete idea di quanto sia importante così come la forza vitale si sviluppa silenziosamente in un seme nascosto sotto la neve la tua energia cresce nel seme dei tuoi desideri preparandosi a manifestarsi in futuro senza che tu debba compiere alcuno sforzo scoprirai quanto è facile cocreare quando si implementa una pratica di quiete e di ricettività io ve lo dico sempre allora vediamo qual è il messaggio di allineamento ci sono giorni in cui ti risvegli con un senso di irraggelata paralisi incapace di muoverti per effetto della negazione emotiva e della resistenza che oppone a ciò che hai di fronte forse il fardello emotivo dell'attuale situazione ti schiaccia e ti sfinisce e decisamente una situazione del genere non è semplice da affrontare la della dell'inverno yuki on e qui per aiutarti a transitare da questa sensazione a uno stato di quiete più sano la sensazione di congelamento è un segno che il tuo ego rifiuta di accettare la vita così come si presenta un atteggiamento che potrebbe potenzialmente causare paura e depressione forse ti senti vittima di una particolare circostanza o di una relazione la dea yuki on desidera ricordarti che questo è solo uno tra i milioni di istante che compongono la tua vita il compito che vuole affidarti è rispondere ad un'unica domanda sei capace di confidare nella grande idea dell'universo come tua parte narrativa nella co-creazione in tal caso rallenta e lasci andare le preoccupazioni così potrai vedere quali miracoli la vita la vita ha da offrire qualcuno che ha fatto che ha scelto questa stesa doveva ascoltare questo messaggio andiamo a vedere i mesi di riferimento anche per questa stesa dicembre dicembre febbraio aprile quindi dicembre febbraio e aprile questi sono i tre mesi di questa stesa cosa significa significa che potreste essere nati a dicembre febbraio aprile uno dei due potrebbe essere che vi siete incontrati in questi mesi potrebbe essere che uno un riavvicinamento un evento eplatante avverrà in questi mesi dicembre febbraio avrà o è avvenuto in questi tre mesi ok questa è la seconda stesa la lettera U se vi è piaciuto mettete un like se vi siete ritrovati iscrivetevi nei commenti se volete iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video andiamo adesso a fare l'ultima stesa la lettera G vediamo se ce la facciamo a tenere dritto è che non vuole sapere questa ma guarda tu ok allora lettera G guardate le cose strane lettera G e poi abbiamo qui G la rigione G la rigione con la G G la con la G tra l'altro Jupiter Giove con la G assurdo assurdo come si siamo richiamati questa stesa assurdo andiamo a vedere chi è la donna di questa stesa chi siete voi chi siete voi la terza stesa con la lettera G è cascata la lettera G è cascata la lettera G ma ormai lo sappiamo che la lettera G poi la rimetto se no perdiamo un'altra mezz'ora a cercare questa lettera G di mettere la giusta andiamo a vedere chi è lui della lettera G tre arcani maggiori per questa donna tre arcani maggiori una donna molto complessa vediamo chi è lui della lettera G ma guarda come si chiamano le carte molto segno di fuoco per quest'uomo allora poco fa avevamo il carro nella donna e il carro nell'uomo adesso abbiamo la ruota nella donna e la ruota nell'uomo interessante interessante queste persone sono collegate sono molto collegate chi è lei chi siete voi voi siete una persona molto emotiva ma che amano nascondere la loro l'emotività e amano tenere molto nascoste le proprie emozioni infatti è una cartella luna emozioni che a volte fanno anche paura ma che si tengono abbastanza nascoste siete anche una persona con tante mancanze nonostante l'impegno con tante mancanze e siete consci di queste mancanze ma diciamo che non riuscite in questo momento a a gestirle diversamente siete anche una persona equilibrata molto equilibrata che ama dare ma anche ricevere è una persona sempre attiva in movimento credo che siate in una fase di quelle fase della vita in cui ci si deve rinnovare la ruota è sempre movimento è sempre karma è un cambio di direzione della vita è un nuovo inizio siete è un punto della vita che rappresenta un nuovo inizio quello che è interessante sono queste due carte cioè il fatto che ci siano intanto tre arcani maggiori tre arcani maggiori su quattro carte siete molto particolari come donne molto particolari siete molto nascoste tra l'altro c'è molto l'energia e la luna in queste carte le vediamo qua le vediamo nel fatto che in questa carta qua siamo di notte o in ogni caso siamo in ombra c'è molta ombra c'è molto non buio perché è sempre rischiarato però è come se ci fosse sempre una parte d'ombra è molto 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 equilibrio pazienza saper aspettare siete persone persone molto equilibrate molto pazienti vediamo lui invece lui è esattamente l'opposto questa persona non solo impaziente è una persona veloce impaziente vuole risultati improvvisi veloci non è una persona che ama attendere è una persona anche ottimista dobbiamo dire ottimista segue molto le sue passioni infatti abbiamo soprattutto Carlo Di Gabriele segue molto le sue passioni ed è capace di pianificare in maniera corretta anche eventuali spostamenti però è una persona che in ogni caso nonostante questa sua velocità soprattutto nel comunicare nel muoversi è una persona molto 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 attiva molto attiva in ogni caso è una persona che ascolta il proprio cuore e che fa sempre quello che gli dà gioia non è una persona che sta a pensarci troppo la persona che agisce è in una fase di rivoluzione anche lui abbiamo due ruota anche lui è una fase di nuovo inizio di fine di ritardi qua ci sono stati di ritardi sia nella parte della donna che nella parte dell'uomo ma questi lati sono finiti questi ritardi sono finiti andiamo a vedere qual è la situazione stesa numero 3 vediamo quanto dura ma insomma un po' Grazie a tutti No ma è una cosa assurda Tre stese tre volte la torre Ok Anche qui Anche qui la gelosia l'ha fatta La padrona e la fa da padrona Anche qui C'era la possibilità di essere felici Ma felici sul serio C'era proprio la felicità C'era l'aver raggiunto i propri Obiettivi ma in questo Momento c'è un grande impoverimento Dovuto alla gelosia Qui qualcuno è geloso Ed è geloso di troppo È geloso di questa donna di coppa Di questa donna che sa guizzare Attirando l'attenzione Guardate Esce come il salmone Il salmone esce poi dall'acqua in questi epizi E lo guardiamo tutti Però Qui È come se ci fosse Una lezione Gli uomo e la donna Qui sono Fanno da lezione all'altro Qui c'è una lezione da imparare Tutto questo dolore Perché c'è del dolore In questa stesa Nonostante questa Grande gioia Questa felicità Che si è toccata Per un po' Ma proprio per un po' Proprio per un po' Perché poi tutto è precipitato A causa di questa gelosia Posso ipotizzare Che la donna Si è svizzata via anche Quando ha visto cadere La situazione Si è svizzata via Ma in ogni caso C'è una lezione da imparare Io ci ho qui Guardate Questa è l'istruzione Qualcuno insegna all'altro Qui c'è In questa stesa Qualcuno insegna all'altro Quando ho di queste stese Sospetto sempre Un rapporto karmico Perché sono i rapporti karmici I rapporti karmici Sono quelli in cui Uno dei due È di lezione O da lezione all'altro D'altronde Come una donna Con tre arcani maggiori Questa è una donna Particolarmente importante Non importante Da un punto di vista professionale Ma una donna Con una grande forza Una grande capacità Una donna Con un'energia Manca a dire Con un'energia particolare Tanto che mi volano le carte Questa è una donna Dall'energia molto particolare Ma proprio la torre L'appeso Non so Secondo me c'è qualcuno Che sta avendo tutte e tre le stese E che ha una fortissima energia Perché non è possibile Che ci sia la torre L'appeso in tutte le stese E le carte che si richiamano Chiaramente Dieci di spade Dieci di spade La mia carta Le stelle Il numero 17 Cosa succede In questa Cosa succederà Questo basta così Di cosa parla Parla di una presa di posizione Parla di un allontanamento Parla di una chiusura Qui E credo che sia la donna Guardate come è messa Si è auto chiusa Anche se non si è auto chiusa Lì ferma Ma non la può sbloccare nessuno Solo gli altri possono sbloccarla Lei non riesce a sbloccarsi Però secondo me E' lì perché Per certi versi Ha anche paura Di questo imperatore Ha paura Dei modi di fare Di questa persona O ha paura Delle conseguenze Qui c'è Qualcosa che non va Conflitti Dolore Tradimento Continuano Io penso che sia Questo sia Un basta così Che Adesso Magari Andrò a chiedere Ancora Pure in questa stessa Con l'altro mazzo In questo momento C'è questa donna Che sta appesa Lì Anche alle decisioni Di questo imperatore Che per certi versi Vuole fare chiarezza Ma c'è anche Questa carta Delle stelle Le stelle E' una storia Data dal destino Che quest'uomo Se ne sta accorgendo Infatti E' molto in conflitto Con se stesso Oppure Quella Giosi Di cui parlavamo Crea ancora Tutti questi conflitti E questo dolore Questa persona Si sente veramente Tradita Braccata Braccata Guardate Guardate Non solo Ha le spade Cioè E' ferito Dalle spade Ma c'ha pure Lupi sopra Braccata A dire poco Proprio Basta E' finita Questa persona E' finita Distrutta Dai conflitti Questo 4 qui Di denari Non mi dà Niente di buono Questa persona Secondo me I conflitti Ce l'ha anche Con se stessa Perché tende Vuole mantenere Quello che ha Che Soprattutto Ricchezze Proprio Patrimoniali Quindi Sta cercando Di trattenere Quello che ha Dobbiamo vedere Una cosa Particolare Il fondo mazzo Mi Mi Suggerisce Un'ipotesi Adesso Me la vado Ad aprire La ruota Della fortuna Anche qua Ragazzi E' allucinante E' 9 di spade Dici di spade 9 di spade Secondo me Questa persona E' legata Secondo me Questa persona E' legata Ecco perché La donna Non si può Muovere La donna L'imperatore E' spesso Un uomo Sposato Un capofamiglia Secondo me Questa persona E' legata E tutto il problema E' nato Dalla gelosia Qualcosa E' venuta Alla luce E c'è stato Questo crollo E la donna E la donna Si è defilata Ma tutto questo È successo In un periodo Di grande felicità Grande felicità E' legata Non per nulla Il 4 di denari Tende 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 Secondo me Ha anche Delle problematiche Economiche Se dovesse Fare una scelta Diversa Ma dentro di lui Sta veramente male Di lui o di lei Sta veramente male Tanti conflitti interni Tanto dolore Si sente Si sente Massacrato Dalla vita stessa Qua invece Abbiamo sempre 10 di spade Ma come Lezione E' quello Quello che ho detto Poco fa Secondo me Questa felicità Questa donna E' da lezione O Quest'uomo Legato E' da lezione Alla donna Adesso vado a vedere Vado a chiarire Un attimo Queste carta Allora Decisamente Qui non è una situazione Facile E l'avevamo intuito Qua c'è anche Da attendere Del tempo Ma qui c'è Sicuramente Un Ritornare Indietro Lo vediamo Da questa carta Lo vediamo Da questa carta Qui c'è Un voler tornare A questa donna Che ci ama Un voler però Tornare Portando una notizia Di vittoria Ma E questo si può fare Solo col tempo La temperanza Questo è solo Nelle intenzioni Secondo me Quindi le intenzioni Sono quelle Di tornare Portando una Notizia Di vittoria Ma questa persona È molto Ed anche Veloce Sta investendo Allora Qui c'è un allontanamento In atto Però secondo me Questa persona Sta pensando Perché guardate Quanti cavalli C'è Quante persone Si muovono In questa stesa Tante persone Si muovono Questa persona Sta pensando Di tornare Allora Quello che mi arriva È che questa ruota Sia all'inizio Per entrambe le persone Nel senso Che loro Abbiamo la possibilità Di ricominciare Veramente Il loro percorso Che sia la fine Di un brutto periodo E che sia Un nuovo inizio Tra l'altro Abbiamo la ruota Anche qua Quindi qualcosa Tra l'altro La ruota Ricordiamoci Un movimento carmico Qualcosa A livello carmico Si sta Mettendo in moto Ora Questo cavaliere Sicuramente Vuole tornare Se lo farà Non lo so Però sicuramente Vuole tornare Vuole tornare Vincitore Portando una bella notizia Si vuole allontanare Da una situazione Pesante Che veramente Qui Lo sta distruggendo Per certi versi Sente tanto La mancanza Sente tanto La mancanza Vorrebbe Ricominciare Da capo Sente tanto La mancanza Però contemporaneamente Ha paura Di lasciare Quello che ha E questo Li fa passare Tante notti Insonni Beh È un bel Grattacapo Per questa persona Se la vedrà Lui O lei Vi dico Che la sua Intenzione È quella Di tornare E di portarvi E di portarvi Delle belle notizie Se lo farà O no Non mi è dato Vederlo Perché era Tutto molto Immaturo Però io dico Che Con queste Ruote Adesso andiamo a vedere Il messaggio Ci delucidi Un attimo La situazione Con le ruote Ma soprattutto Ecco Adesso mi sono resa Abbiamo La carta numero zero Per l'uomo L'uomo è veramente Al punto zero Al punto di buttarsi Verso l'ignoto Vuole ricominciare A tutti i posti Vuole Però Anche la donna C'è il nuovo di spade Qui c'è tanta Sosterenza In questa In questa stesa Vannaggia Allora Andiamo a vedere Andiamo a vedere Giove Andiamo a vedere Giove Che cosa ci vuole dire La carta 18 Giove È spesso ritenuto Il pianeta Della fortuna E dello sviluppo Il desiderio Di capire Il grande disegno Di raggiungere La giatezza Di provare gioia Sono una grande parte Dell'influsso di Giove Ottimismo Fede E spiritualità Svolgono dei ruoli In tali questioni Quindi Giove Ci aiuta ad essere Ottimista Ad avere fede In questa In questo epilogo positivo Che avevamo visto Andiamo a vedere adesso Gula La guarigione Vediamo che cosa ci dice Qual è il messaggio Gula La rea babilonese Della medicina Della guarigione È qui per donarti La sua benedizione E per guidarti Verso il benessere La rea La rea ti invita a concentrarti Ogni tua azione Adesso produrrà solo effetti benefici D'altronde D'altronde Avevamo la ruota Quindi c'è effettivamente C'è effettivamente Devi imparare a tenere a freno La tua entusiastica tendenza A dire sì a qualsiasi cosa Hai permesso che altri Ti prosciugassero Perché ritieni che sia Tuo dovere Ascoltarli Amarli E risolvere I loro problemi I tuoi cari Sono aggrappati Il loro ruolo di vittima E ne fanno uso Per imporsi su di te Il tuo compito di allineamento È fare un passo indietro E ristabilire la verità Compiendo nuove scelte E imparando a non farti mettere In secondo piano Sarai felice di averlo fatto Ricorda solo che talvolta La scelta è più salutare E prendersi una pausa E focalizzarsi su se stessi Tanto per cambiare Grande, grande messaggio Grande, grande messaggio Grande messaggio Molto, molto, molto appropriato Andiamo a vedere adesso Quali sono i mesi coinvolti In questa stesa Chiaro, non è che se non ci sono i mesi La stesa non è per voi Perché se l'avete scelta Qualcosa dovrà arrivarvi Giugno Marzo Agosto Cosa significa? Significa che O siete nati in questi mesi O la persona di frammentare In questi mesi O qualcosa è successo In questi mesi O qualcosa Succederà In uno di questi mesi Giugno Marzo Agosto Agosto Ok? Perfetto Con questo interattivo fiume Abbiamo finito Per questa sera Questa era la stesa Della lettera G Se vi è piaciuto Mettete un like Se vi siete ritrovati Iscrivetevi nei commenti Se volete Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella E sarete sempre avvisati Ai prossimi video Io per questa sera Vi saluto Ci vediamo Alla prossima Bye bye